Buongiorno a tutti, io sono Federica Corrado, sono professoressa al Politecnico di Torino, sono past president di Cipra Italia. Devo dire che sono molto contenta di aver partecipato a questo incontro organizzato dalla Fondazione Simbola in collaborazione con Uncem, un incontro che mette al centro un tema decisivo che hanno declinato come sfida territoriale che è la necessità di una trasformazione, un cambiamento all'interno dei territori, all'interno delle comunità per riuscire in qualche modo a vincere quelle che sono oggi le grosse sfide poste a questi territori in termini di calo demografico, in termini di un modello economico entrato in crisi e quindi richiede necessariamente una trasformazione e poi sicuramente un tema che a me è molto caro anche per il mestiere che svolgo, che è quello di mettere al centro il tema del ricambio generazionale.